Sero dato Gesù, adesso vi impartisco la benedizione a più larga da parte di Dio, non soltanto a voi presenti, ma a tutti coloro che vi stanno a cuore, alle vostre famiglie, ai vostri coccolati, alla persona a voi cara, ma in modo speciale ai poveri soffereni. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Saludato Gesù e Maria e buonanotte a tutti.